sulla cima del monte capanne all'isola d'elba da cui domina un panorama 360 gradi tutto intorno all'isola in fondo l'isola di pianosa poco oltre l'isola di monte cristo la parte est dell'isola d'elba con porto farraio capo fetovaia marciana capraia porto azzurra in fondo la costa suda la costa suda la costa suda la costa suda la costa suda